Agenti del commissariato di Occireale hanno identificato l'autore di numerosi furti su auto avvenuti in città nell'ultimo mese. Senza alcuna effrazione venivano aperte autovetture prevalentemente di grossa cilindrata e venivano sottratti dall'interno tutti gli oggetti di valore presenti. S.A. di anni 45, pregiudicato, in collaborazione con una giovane donna, O.M. di anni 25, già sottoposta a foglio di via obbligatoria perché sorpresa a rubare ad accireale all'interno di un'autovettura, utilizzava un'apparecchiatura montata sulla sua macchina, che emettendo delle onde sonore ad alta frequenza impedivano agli ignari proprietari delle auto di inserire l'antifurto nella propria vettura, con il telecomando, lasciando la guindia aperta. Successivamente, appena il proprietario del mezzo si allontanava, interveniva S.A. e con molta naturalezza entrava nel mezzo rovistando nell'abitacolo e nel cofono rubando quanto trovava. A seco delle denunce presentate, il commissariato di O.D.A. C. Reale organizzava degli appositi servizi di osservazione diretto a mezzo delle telecamere presenti in strada. I due complici venivano quindi sorpresi all'interno del parcheggio di un centro commerciale locale, mentre si aggiravano con fare sospetto fra i mezzi in sosta. Sono stati posti sotto sequestro alcuni arnesi atto allo scasso e l'autovettura del soggetto dove era stato montato il meccanismo utilizzato per inibire le onde elettromagnetiche dei telecomandi delle autovetture delle vittime.